Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la quotidiana rassegna stampa curata dalla redazione giornalistica. Allora iniziamo subito con la lettura dei giornali andando sul touch e andando a sfogliarli. Partiamo dalle prime pagine regionali, iniziamo dal centro, questa è la prima dell'edizione di Pescara, il titolo di apertura svaliggiata alla villa del rettore Caputi, rettore dell'Università di Chieti e Pescara ad annunzio, maxicolpo nella casa a Francavilla al mare, i ladri aprono le cassaforti e portano via i gioielli, purtroppo questo non è il primo colpo portato a segno con questo stile a Francavilla al mare, ricorderete ci sono stati anche degli altri colpi in altre abitazioni sempre nel centro della città. Andiamo a centropagina e troviamo invece il problema incendi, roghi, chi ci guadagna 300 milioni? Ecco il business del rimboschimento, vedete sulla montagna bruciata dalle fiamme, il Monte Morrone appunto devastato dai roghi, solo un pino sembra essersi salvato in questa fotografia, quasi un messaggio di rinascita per la montagna sacra a Celestino V. All'interno la sanità piano ospedale, il Tarrabruzzo dà il via libera per quanto riguarda i ricorsi che sono stati portati avanti dagli ospedali di Penne e da quelli di Popoli per quanto concerne i comitati che ne chiedono la salvaguardia. E poi il lavoro, Burger King apre all'Aquila 35 le assunzioni. Andiamo a vedere anche nelle cronache. A Pescara barriere antiterroristi già spostate dagli incroci, questa l'ultima polemica cittadina, poi il rapinatore delle farmacie tradito dalla bici della figlia ancora a Pescara. Nuovi assessori al debutto ieri nel primo consiglio comunale del dopo rimpasto, Alessandrini sotto accusa. Ci spostiamo a Montesilvano, ponti sul Saline, opere ferme, finanziamento a rischio. Andiamo a vedere nel taglio basso il Buongiorno Abruzzo, firmato da Giuliano Di Tanna. Il titolo è Se il fuoco divora anche la nostra identità. Ovviamente la riflessione è sugli incendi. Andiamo invece nel taglio alto i richiami dal nazionale e dagli esteri. Venti di guerra in Oriente, missili sul Giappone, bombe, fa paura la Corea di Kim. Poi minniti sulla vicenda migranti ottenuto per la tenuta democratica del Paese, questo dice il Ministro dell'Interno. Poi approfondiremo quando andremo ad aprire le prime pagine nazionali. Passiamo adesso alla prima di Chieti Lanciano Vasto, sempre per quanto riguarda il quotidiano e il centro. Il titolo di apertura è il medesimo che abbiamo visto sull'edizione di Pescara e riguarda il furto all'interno della villa del Rettore Caputi. E poi andiamo a vedere nelle cronache Chieti, caos vaccini, proteste per il medico in ritardo. A Vasto comuni senza acqua, in arrivo sei autobotti per fronteggiare l'emergenza. Palombaro, addio a Danilo, sala consigliare e una strada in suo ricordo per il consigliere comunale di Palombaro, 29enne, stroncato da un problema cardiaco. E poi Chieti, droga in casa, padre e figlio arrestati per spaccio. Andiamo a vedere anche la prima della edizione di Teramo. Il titolo di apertura taglia di 3.000 euro sul piromane. Questa è la decisione del sindaco di Torricella dopo il quarto incendio doloso in pochi giorni. Andiamo nelle cronache sotto la fotografia. Terremoto, i MUSP avranno 500 posti. Brucchi dice sono sufficienti per quanto riguarda la città di Teramo. Atria domani si sciopera contro i 55 licenziamenti. Sciopero di 8 ore con sit-in. E poi Giulianova, comune deciso a far pagare la Tari sulle strisce blu a Roseto di Girolamo al prefetto. Qui non più di 150 migranti. Queste sono la prima di L'Aquila-Vezzano sul Mona. Andiamo anche qui a vedere il titolo di apertura. Due sospettati per gli incendi dolosi sul Mona. Sarebbero gli autori del rogo sul morrone, ore di paura a Secinaro e Pratola. Andiamo a vedere nelle cronache. La perdonanza si chiude. Biondi in città troppe divisioni. All'Aquila, senologia, prenotazioni soltanto nel 2019. Sempre dal capoluogo università, i docenti scioperano esami a rischio. Ad Avezzano accuse il suo ex di violenza, ma era tutto falso. Ora cambiamo testate. Invece ci spostiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la prima dell'inserto a Bruzzo. Anche qui in apertura, in primo piano, gli incendi, le ronde contro gli incendi. Morrone devastato dal fuoco. Nuovo fronte a Secinaro. Grave infortunio per un volontario. Caccia al piromane che incendia la vegetazione, mentre gli altri creano barriere. Antifiamme. Andiamo a vedere anche a centropagina, ancora per il capitolo incendi. Teramo, l'iniziativa di Torricella sicura. Quattro canadeira a Pescara. Il titolo arriva la taglia su chi appicca i roghi. Una vera e propria taglia di 3.000 euro sui piromani è quanto deciso dal comune di Torricella sicura, che dopo il quinto incendio scoppiato nella notte sul territorio, ha deciso di offrire una ricompensa a chi fornirà informazioni utili ad individuare la mano o le mani che si nascondono dietro i roghi. Diamo di spalla ora la regione alle prese con il dossier d'autunno. Zone economiche speciali, occupazione e post-sisma, chance da sfruttare, scrive Stefano Cianciotta. E poi continuiamo con la cronaca, ma questa volta ci spostiamo a Pescara. Rapine in serie, nelle farmacie, due in manette. Pescara a quattro colpi in pochi giorni. Un indagato prendevo solo pochi euro. Nel taglio basso, l'Aquila, boss nel carcere insieme al sicario. Il boss Sandro Lopiccolo è giunto nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila con tanto di scorta degna di un personaggio di alto spessore criminale. È stato rinchiuso in un'area ristretta, riservata ai mafiosi ritenuti più pericolosi. Farà compagnia a quel Gianni Nicchi, che aveva avuto l'incarico di uccidere lui e il padre, di scioglierli nell'acido perché favorevoli a rientro dall'America a Palermo, della scomoda famiglia degli Inzerillo. Andiamo a vedere anche il taglio alto della prima pagina del messaggero Abruzzo. L'Aquila lascia Moroni, lo storico organizzatore della perdonanza. E poi Giulianova scoperti furbetti del ticket in ospedale. Per il calcio, il Pescara fra le favorite e il pronostico dell'ex allenatore del Pescara, Cerse Cosmi, che presenta la partita di Perugia non sarà allo Stadio Curi. Per quanto riguarda invece il mercato, possibile ritorno di Balzano, mentre Zampano, Vira su Benevento. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura riguarda la sanità. C'è solo Teramo per l'ospedale unico. La ASL screma tutte le proposte in campo, compresa Giulianova, l'area migliore e quella di Piano Daccio. C'è poi l'intervento di Marcello Martelli, la fabbrica di governanti. E il titolo della riflessione in prima pagina. E poi andiamo a vedere nel taglio alto, presentata la proposta definitiva del sindaco Brucchi, il polo scolastico Coimusp scende a 500 posti. Chiodi accusa regione impreparata sugli incendi e poi in provincia anche Renzo è tentato dalle dimissioni per seguire la strada che porta in Parlamento. A centro pagina il pratiditivo, il gruppo Globo trasforma l'hotel Orso Bianco e allora il titolo è la spa sul Gran Sasso. Di spalla a Teramo il giudice ordina di riaprire la strada per mezzanotte. E poi da Roseto degli Abruzzi, guerra dei cassonetti nei condomini. Ancora invece da Giulianova, è polemica sul lido per disabili. Gli ex gestori del fund criticano il comune. Nel taglio basso le indagini sul traffico di droga verso la costa, la droga che arriva da Scampia e poi per il calcio di Lega Pro. Il mercato del diavolo resta un rebus. Intanto arriva Sumare. Lasciamo adesso le prime pagine regionali e andiamo ad aprire lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Andiamo a vedere l'apertura che riguarda i venti di guerra internazionali e la provocazione della Nord Corea. Spaventa le borse. Missile sopra il Giappone e gli Stati Uniti. Tutto è possibile. Opzione militare in campo. E poi, restando sempre agli Stati Uniti, vedete la foto del presidente Trump che scende con la moglie Melania dall'Air Force One in visita in Texas. Harvey, la visita del presidente, migliaia di sfollati. Trump in Texas dice che è un disastro epico quello che sta accadendo con l'uragano che sta mettendo davvero in ginocchio il Texas, provocando anche danni economici molto ingenti. Torniamo invece in casa nostra. Altra notizia importante. Lotta la povertà arriva l'assegno, ma è un acconto. Il reddito d'inclusione dal 1 gennaio 2018. Questo è quanto varato dal Consiglio dei Ministri. E poi c'è il caffè di Massimo Gramellini, con una notizia, anche questa davvero importante, il titolo ai genitori da collezione. Notizia di cronaca che, come sempre, Gramellini affronta in maniera particolare. Signori della Corte, in nome della sacralità della famiglia, leggiamo dall'articolo, vi esorto a considerare in tutta la sua eccezionale portata il comportamento di due delatori oggi alla sbarra. Si tratta di un padre ed una madre. Ripercorriamo i fatti. Erano le 6 del mattino quando la vittima, un giovane di Eraclea, nelle cui vene convivevano fraternamente l'alcol e la droga, rientrava in casa con il muso dell'auto ricoperto di lividi, sostenendo con scarsa convinzione di avere forato una gomma. Ora, signori, sappiamo benissimo quale reazione aspettarci in casi simili da un genitore cresciuto nel rispetto dei valori del familismo. O ignora le parole del figlio oppure si affretta a confezionargli un alibi. Invece i due imputati, mossi da un insano senso di responsabilità, hanno percorso la strada ritroso in cerca di indizi che avvalorasse i loro sospetti. Hanno scoperto che qualcuno aveva investito a morte un turista sloveno senza prestargli soccorso e che questo qualcuno aveva perso il fanale anteriore dell'auto. Hanno capito. Ma anziché portare il figlio in un luogo sicuro e intanto sviare le indagini, accusando dell'omicidio un migrante, un leghista o un migrante leghista, hanno confidato il segreto di famiglia a degli estranei, di fatto consegnando il ragazzo alla giustizia. Con questa finzione letteraria di un processo che ovviamente non è mai esistito, Gramellini ci racconta questa storia particolare di due genitori davvero coraggiosi e d'esempio che hanno denunciato il proprio figlio responsabile purtroppo di un atto davvero terribile di aver investito un turista, ma soprattutto di non aver prestato soccorso. Andiamo adesso su Repubblica. Chiaramente sono due le notizie che pone in primo piano la Repubblica. La prima riguarda la povertà, un assegno da 490 euro. A gennaio scatta il reddito di inclusione per 500.000 famiglie. 5 Stelle e MDP dicono misura insufficiente, abusivismo 2 miliardi per chi abbatte case irregolari e ricostruisce a norma i dubbi di Cantone. E nel taglio alto invece i venti di guerra, USA e Giappone pronti a fermare la Corea. Cresce la tensione dopo il missile che ha sorvolato Tokyo, Kim e ora colpiremo Guam. E chiaramente è un problema davvero grande quello che si pone davanti alla politica internazionale. E poi ritroviamo anche qui la notizia che abbiamo letto in precedenza da Gramellini. Il ragazzo travolce e uccide un ciclista se la mamma smaschera il figlio pirata della strada. La stampa di Torino ora. Torino nella città dove i migranti vivono sottoterra. Centinaia negli scantinati dell'ex villaggio olimpico perquisito lo stabile liberato a Roma. Il racket voleva soldi per sedersi. E poi a centropagina la paura in Giappone è corsa ai bunker nel paese del Sollevante. Dopo il missile nordcoreano che lo ha sorvolato sull'isola di Hokkaido. Trump dice ogni opzione è sul tavolo. E poi via al reddito di povertà contro la povertà. Si parte a gennaio a segno mensile massimo da 485 euro coinvolte 660.000 famiglie. Il fatto quotidiano. Andiamo a vedere la notizia principale. Sicilia, i partiti al verde e il ritorno dei capi bastone. Una campagna con i fichi secchi. Il PD in bolletta. Forza Italia non se la passa meglio. Il 5 Stelle non spende. I poteri dell'isola iniziano a posizionarsi in vista delle elezioni regionali. E poi Gentiloni, gli annunci del reddito e l'inclusione. Gentiloni toglie i poveri per poi ridare ai poveri. Andiamo a centropagina. Così gli 007 avvisarono governo e Salvini dei legami. ONG scafisti, migranti, minniti. Dice, ho temuto per la tenuta democratica del paese. Raggi dice, basta, occupazioni. Continuiamo con il sole 24 ore. Andiamo a vedere l'apertura. Nord Corea, Stati Uniti, mercati in trincea con euro e oro. Rischio escalation dopo il lancio del missile di Pyongyang sopra il Giappone. Scatta la corsa ai beni rifugio. Trump, ogni opzione aperta. Pechino difende. Kim. Andiamo a vedere anche alle altre notizie. Allora scendiamo nella pagina. Arriva il riordino dell'eco bonus, le detrazioni commisurate ai risparmi energetici ottenuti, la proposta al valio del tesoro che deve decidere, anche se stabilizzare la misura. Questo per quanto riguarda le altre notizie economiche. Nel taglio alto, come si consueto, il focus ad empimenti per lo spesometro. Pronta la nuova proroga e poi il via libera al reddito di inclusione. Ora sul messaggero, titolo di apertura, pensioni donne, anticipo più facile. La notizia di primo piano, il governo pronto a ridurre di due anni i contributi richiesti per accedere all'app social, lotta alla povertà, varato il reddito di inclusione alle famiglie, fino a 485 euro al mese. E poi a centropagina, provocazione di Pyongyang, panico a Tokyo, sirene e treni fermi, Corea, missile di Kim sopra il Giappone, Trump pronti a tutto, Seoul bombarda. Andiamo a vedere anche gli sgomberi a Roma, ok di raggi nel palazzo occupato falsificavano i permessi per acquisizione in via Curtatone, così a Giverracket trovati timbri di Stato, TV al plasma e una pelliccia. Continuiamo con il manifesto, il titolo come sempre particolare del manifesto sulla fotografia voto di povertà. Andiamo a leggere il governo Vara, il REI, il reddito di inclusione per le famiglie più indigenti, ma l'importo dell'assegno è troppo basso, sottoposta a graduatori e discriminanti e coprirà 400 mila famiglie, solo un quarto dei nuclei bisognosi dal PD, unanime esultanza elettorale. Questa è la lettura del quotidiano comunista. E poi emergenza, nominato il commissario dal crescent al terremoto di Ischia. Andiamo sul quotidiano Il Tempo, apertura differente per Il Tempo. Boldrini, ti racconto il mio stupro, questo è il titolo di apertura polemiche per i silenzi della Presidente su Rimini, così una donna abusata da due rom le scrive, sulle violenze sessuali dei quattro immigrati la politica dice cose folli e quel mediatore va cacciato. Poi a centropagina la questura vieta il rito in programma veredì, loro al Colosseo non pregheranno più di spalla, il reddito d'inclusione, pochi soldi ai più poveri, al resto nulla. Andiamo su Libero, restiamo dunque nel campo dei quotidiani di centrodestra. Da diabolico piano politico giudiziario vogliono uccidere la Lega e il titolone di apertura la condanna definitiva a Bossi non c'è, ma i magistrati premono per sequestrare 48 milioni al carroccio e la stessa ricetta usata per Berlusconi se l'avversario della sinistra cresce va fermato in ogni modo. E poi a centropagina la festa del sacrificio è una barbarie, costringiamo l'Islam a macellare con pietà. Andiamo sulla verità ora. Tasse ai terremotati, il titolo di apertura sgravi agli abusivi allo studio, la super sanatoria per chi abbatte la costruzione regolare, un quinquennio senza tasi e imu è permesso di ricostruire. Fesso chi segue la legge, dice il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il governo approva l'elemosina di Stato oppure per stranieri qui da due anni. e questo invece è il riferimento al reddito di inclusione. A centropagina invece Hitler d'Oriente minaccia il mondo con la foto di Kim che guarda il tragitto del missile spedito sulle teste dei giapponesi. Andiamo ancora avanti, la giustizia, la classifica dei giudici più lenti d'Italia. Roma 16 mesi per la motivazione di una sentenza, 7,9 parole al giorno, ma c'è chi ci ha messo 8 anni. Il secolo d'Italia è il quotidiano che fa riferimento al partito Fratelli d'Italia. Terroristi sui barconi è il titolo di apertura del giornale che torna di nuovo sulla questione migranti. In primo piano hotspot in Africa, Meloni, Fratelli d'Italia li chiedeva da anni. Niente moschea a sesto, il PD che fa insorge. Poi sgomberi, ancora bagarra a Roma, sinistra contro i 5 Stelle. Ora su avvenire, il quotidiano cattolico chiaramente in primo piano pone il freno alla povertà messo dal governo con il reddito d'inclusione, prende forma la prima misura universale che dà fino a 485 euro e aiuta la partecipazione lavorativa. Gentiloni, il premier, dice i fondi saranno aumentati nel 2018, sì definitivo al reddito d'inclusione e da gennaio contributo mensile per 660.000 famiglie deboli. Vedete anche i numeri ballano tra un giornale e l'altro sulla platea coinvolta da questa misura del governo. Poi troviamo a centropagina nella fotonotizia, giornata CEI per la custodia del creato, anche il turismo deve essere sostenibile. Ancora il tema della Nord Corea che alza il tiro, il Sud risponde. Altro lancio, Trump dice, gli Stati Uniti sono pronti a tutto. Andiamo sul mattino di Napoli. In primo piano troviamo la notizia che riguarda i terremotati, i terremotati 900 euro al mese, stato di emergenza, il governo assegna 7 milioni per quanto accaduto ad Ischia dove ieri è arrivato il presidente della Repubblica, Mattarella, che vedete nella fotografia vicino al piccolo Pasquale salvato dalle macerie. Poi a centropagina Minniti, ottemuto per la democrazia. Il ministro spiega la strategia e difende lo Ius Soli, sicuri senza emergenze e con più integrazione. A Parigi hanno capito allarme del Viminale, movimenti per la casa e migranti, mix esplosivo a Roma e Napoli. Nel taglio basso, Nord Corea, la sfida alza il rischio da Pyongyang missile verso il Giappone se lo sgancia otto bombe. Il pasticcio del ministero cambia il nome della treccia di latte vaccino e il titolo S, se la Puglia ci scippa la mozzarella, ovviamente il quotidiano si riferisce alla Campania essendo un quotidiano napoletano. Il secolo XIX quotidiano di Genova apre con il reddito antipovertà, si parte da gennaio fino a 485 euro al mese per 660 mila famiglie, ecco tutte le regole, scatta la fase 2 sulle pensioni intanto, ma resta il nodo dell'età di uscita. Andiamo a centropagina, anche qui in primo piano la minaccia di Kim, Seul sgancia le bombe, il missile sul Giappone spaventa anche le borse che poi però si sono riallineate, Trump dice siamo pronti a valutare anche l'opzione militare. Adesso ci spostiamo sui quotidiani sportivi nazionali, andiamo a vedere per prima la gazzetta dello sport che chiaramente in primo piano pone l'ultimo sprint per il mercato, per il calcio mercato, dunque mercato, ultimo sprint, Inter caccia al low cost Mustafi e Caramo. Poi Milan, l'intrigo Niang blocca una mezzala, Napoli vuole prenotare Berardi per il 2018, Juve aspetta Emre Can, Toro tentativo per Munir questi alcuni dei colpi per il mercato che, come ricorda la gazzetta, domani alle 23 chiude i battenti. Di spalla e Bonucci non sono un infame, ha avuto coraggio ad andare al Milan, il difensore più carico che mai, anche per Spagna-Italia. Intanto Cutrone racconta come è esploso in rosso-nero. E poi il neoacquisto nero-azzurro, Inter cancello KO con il Portogallo starà fuori un mese. Ancora Serie A anticipi e posticipi, il derby a San Siro torna domenica sera a Verona, 4 lunedì. Un caso al Bayern Monaco, Ancelotti fa discutere, scarica l'idolo Müller, metà Germania, insorge. Andiamo nel taglio basso, per quanto riguarda la Juve, la Juve arriva Evedes, oggi le visite, sentite che Dira è un leader, la Roulette Keita saluta tutti e va al Monaco per 30 milioni di euro. Cagliari Boom preso Pavoletti e l'acquisto più caro del club isolano. Nel taglio basso il tennis, Sharapova batte Halep, le lacrime di Maria incantano New York, io brava ragazza. E poi ciclo, c'è l'arrivo a 2120, fantastico trentine, la vuelta buona e concede il bis ottavi alle 17.30 sul Rai 2 per l'Eurovolley, ecco il piano dell'Italia per murare i turchi. Ora sul Corriere dello Sport, a centropagina, il titolo è Napoli che botti. Contatto con il Sassuolo per avere l'opzione sull'attaccante, accordo per la prossima stagione con il portiere argentino della Real Sociedade. Continua il pressing su Denis Suarez, il club nerazzurro scatenato, prenotato Berardi. C'è l'intesa con Rulli. Nel taglio alto il calendario Roma-Napoli ritorna di notte, Allegri, Sarri di venerdì, Inter e Milan, orario cinese. Ecco tutte le variazioni fino a Natale, c'è un derby all'Olimpico alle 18.00. Nel taglio basso andiamo a vedere Keita, il colpo del Monaco, Lazio più ricca, lo titolo che incassa 30 milioni e vince la sua battaglia. Poi la Juve, la Xalt, la chiave per Spinazzola. L'estero, Mancini, Zenit, scoppia la crisi e poi la Formula 1, delirio a Monza per la Ferrari. Andiamo su tutto sporto ora. Il titolo è il caso, salvate Spinazzola. Anche il Papu Gomez, capitano dell'Atalanta, lo attacca. In queste condizioni restare a Bergamo è difficile. Juve alla finestra, intanto Juve che si gode. L'acquisto di Ovedes oggi sarà a Torino. Nel taglio alto il Toro, ecco Burdissoni, Hangout Trans, il Milan, lo sfogo di Bunucci, non merito gli insulti. Andiamo nel taglio basso. Keita va al Monaco, Barca Coutinho e sì, ancora per il mercato, Inter, Lissandro Lopez, Pavoletti a Cagliari. Noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo e poi torniamo con la seconda parte di mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione, lo facciamo riaprendo le pagine interne dei quotidiani regionali. Partiamo dal primo piano del centro Roghi. Chi ci guadagna il rimboschimento costerà 300 milioni di euro, scrive il giornale. Ecco il business per ripiantare 6.000 ettari di pini neri, querce e falgi. La regione ha già convocato una riunione per il 13 settembre. La legge vieta di farlo nei 5 anni successivi agli incendi, ma c'è una scappatoio. D'Alfonso parla con il ministro Galletti. Mi ha assicurato che aiuterà l'Abruzzo. Intanto le fiamme hanno raggiunto anche le case. In Valle Pellinia riparte l'Inferno due incendiari nel mirino dei Carabinieri. Nel taglio basso i rilievi fatti dall'arta, monossido, benzene e polveri nell'aria a seguito dell'incendio. L'arta pubblica i dati, l'inquinamento da fumo cresce di notte, centralinea Marane, Pacentro e Prezza. Andiamo a vedere l'altra pagina, sempre dedicata agli incendi. Abruzzo caso pilota. Troppi roghi forestali possono tornare in campo. Accordo Borrelli del 7. Quegli esperti coordineranno i volontari nella bonifica. Mazzocchi e Petrucci rilanciano il progetto preturo base della protezione civile. Ora reclutano ronde antincendio i comuni del Genzana e un sindaco Teramano mette la taglia sui piromani. Si tratta del sindaco di Torricella Sicura. Nel taglio basso le polemiche sugli incendi. MDP articolo 1 con Melilla che scrive Gentiloni, interventi straordinari sono necessari. Poi l'ex governatore Chiodi di Forza Italia, la regione, ha sottovalutato il problema. Per i beni culturali interviene Lucia Arbace preoccupano i danni ai monumenti, dice il direttore del Polo Museale d'Abruzzo. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo del messaggero. Anche qui in primo piano gli incendi, i piromani nelle aree salvate dal fuoco. Ora è caccia all'uomo. Incendi nelle zone già isolate e la prova dell'azione dolosa. Ora si organizzano delle ronde per individuare i responsabili di questa estate caratterizzata dagli incendi. Fumo e ceneri secondo l'arta, la qualità dell'aria è in fase di miglioramento. A Torricella Sicura abbiamo già letto una taglia per inchiodare chi appicca le fiamme quanto messo in campo dal sindaco e dal comune di Torricella con una taglia da 3.000 euro per chi dà informazioni utili alla cattura dei piromani. Fuori pericolo intanto il volontario che è stato colpito da un masso mentre soffocava un focolaio. Nel taglio basso un milione di litri d'acqua al giorno non basta per spegnere i roghi. Questi dati davvero mostre della emergenza. Il dolore dell'Arbace, direttrice del Polo Museale Abruzzese, sul Monte Morrone, i luoghi celestiniani, non c'è più nulla e l'aeroporto d'Abruzzo. Quattro canader non riescono a risolvere la situazione. Andiamo avanti adesso con il messaggero. Andiamo ad aprire la pagina di Pescara. Regia esterna per la nuova giunta e l'apertura sulla politica del capoluogo adriatico. Ieri il Consiglio Comunale, il primo dopo il rimpasto. L'opposizione incalse il sindaco sul rimpasto e ne chiede le dimissioni. Il rientro di Teodoro deciso in altri palazzi, dicono, è l'affondo al quale ribatte Presutti, capogruppo del PD. Siete ossessionati da D'Alfonso. Maria Ida D'Antonio è subentrata nel gruppo PD a Simona Di Carlo, chiamata a lavorare nell'esecutivo. E poi Castricone interviene. Da Diodati accuse assurde il posto di Teodoro doveva cederlo. Sel, questa l'intervista all'onorevole del PD che svele il retroscena sul rimpasto e li batte all'ex assessore che lo ha attaccato. E poi c'è la protesta del Movimento 5 Stelle, no alle commissioni per i soli verbali. Restiamo dunque al rimpasto di giunta portato avanti dal sindaco Marco Alessandrini. Andiamo ad ascoltare il neo-assessore Gianni Teodoro intervistato da Paolo Renzetti. Sono qui per dare il giusto contributo nella giusta misura come anche il sindaco mi ha chiesto. Alla lista Teodoro toccava un assessore per quello che la lista Teodoro aveva fatto in termini di numeri nell'elezione del sindaco Alessandrini. Però ci sono state tante polemiche non per il suo ingresso ma per l'uscita di alcuni assessori. Lei dall'esterno che idea si è fatto? Guardi, innanzitutto voglio salutare l'amico Giuliano Diodati e ringraziarlo per il buon lavoro che ha saputo portare in avanti in questi anni al Comune di Pescara. Noi non abbiamo chiesto nulla ma la politica e quindi il sindaco ed il partito, di cui il sindaco fa parte, il Partito Democratico, ci hanno chiesto una collaborazione. Ecco, nel chiedere questa collaborazione al gruppo consigliare, il gruppo consigliare, intavolando un ragionamento molto serio, sono arrivati ad una conclusione definitiva che la lista Teodoro doveva essere rappresentata in quanto noi abbiamo sottoscritto il patto di coalizione che ha portato Alessandrini a Palazzo di Città. Quindi questo patto di coalizione non fu interrotto per causa nostra, quindi per causa della lista Teodoro, ma per una scelta che la politica in quel momento, la coalizione, prese. Si sono accorti dell'errore e hanno voluto giustamente, come dire, recuperare. Lì parlava di deleghe Teodoro e tra queste deleghe c'è anche quella della politica della casa. Una delega pesante, una patata bollente alla luce di quello che è successo qualche settimana fa, per esempio, in via Lago di Borgiano. Sì, dicevo appunto poc'anzi, proprio mi hanno chiesto di dare la massima collaborazione e di accettare, proprio perché ci sono situazioni difficili da affrontare e come lei ben sa non è soltanto la politica della casa, ma anche altre deleghe come la protezione civile, come il contenzioso, che le ho anch'io, e sono deleghe comunque difficili, complesse. Bene, io non mi tiro indietro, sto lavorando e stiamo già lavorando insieme alla struttura per arrivare ad una soluzione definitiva, chiaramente seguendo già questo lavoro avviato, quest'ottimo lavoro avviato, per cui cercherò di portarlo a termine nel più breve tempo possibile affinché gli sfollati possano riavere giustamente il loro diritto, quello di una casa. Sempre sulle pagine del messaggero cambiamo argomento, ci occupiamo adesso di sanità ospedale declassato, il Tar boccia il ricorso del comune di Penne, bissato il no già dichiarato per popoli, accolte le tesi di D'Alfonso e Mancini. Notizia che ritroviamo anche sulla pagina Abruzzo del quotidiano Il Centro, piano sanitario dal Tar disco verde alla rete ospedaliera. I giudici amministrativi rigettano i ricorsi dei sindaci di Penne e Popoli, ultimo atto di una battaglia legale durata tre anni. L'assessore Paolucci, non ci sono strutture che chiudono ma ci sono strutture che vengono riqualificate, ci attendono. Investimenti importanti in sanità. Sempre su questa pagina, Sospiri scrive alla regione vaccinazioni, la burocrazia non pesi su scuole e famiglie, poi il rapporto dell'Ina, crescono gli infortuni mortali, i casi di Rigopiano e Campo Felice fanno impennare i dati nazionali. Nel taglio basso l'Aquila Burger King apre ed assume 35 addetti. L'inaugurazione a metà settembre. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro, sulla apertura della pagina di Pescara, il piano sicurezza, le barriere antitir, un intralcio già spostate dagli incroci in centro. Accantonate ai lati delle strade, i blocchetti gialli posizionati per sventare attacchi terroristici, i commercianti dicono siamo incastrati e c'è chi minaccia, denuncia il Comune in caso di danno all'auto e vedete proprio i blocchetti messi da parte. Nel taglio basso, altra notizia sempre da Pescara, i prigionieri in casa per il calcio, i residenti di strada della Bonifica dicono impossibile muoversi quando gioca il Pescara. E poi operazione della polizia tradito dalla bici Rosa della figlia, arrestato, bandito delle farmacie di Rosa, accusato di aver messo a segno quattro colpi in 11 giorni, preso anche il complice, denunciata una terza persona. Andiamo a vedere insieme il servizio sulla conferenza di ieri tenuta dalla polizia di Pescara. Identificati i presunti responsabili di quattro rapine a farmacie commesse in questo mese a Pescara, ai domiciliari sono finiti due uomini di 52 e 37 anni. La svolta nelle indagini è arrivata quando il 37enne si è recato da cliente in una delle farmacie rapinate venendo riconosciuto dal titolare. Abbiamo scoperto i responsabili di quattro colpi, uno tentato messi a segno nelle farmacie del Pescarese, colpi tutti ravvicinati e compiuti con la stessa tecnica. La svolta è venuta del tutto inaspettatamente dal fatto che il rapinatore si è recato per la terza volta nella farmacia Tiburtina, questa volta a fare acquisti come un normale cittadino e lì sono stati bravi dipendenti che hanno ritenuto di riconoscerlo nell'autore dei due precedenti episodi. Da lì di identificazione la perquisizione che ha portato a dei riscontri fortissimi, quasi inattaccabili direi e la ampia confessione dello stesso soggetto in ordine al coinvolgimento negli episodi che gli abbiamo contestato. Il bottino ammonta meno di un migliaio di Euro perché sono 560 Euro nella prima, una è solo tentata, una rapina e nelle altre due occasioni il colpo ha fruttato 200 Euro complessivamente. C'è una terza persona su cui stiamo facendo gli opportuni approfondimenti per verificare la sua effettiva presenza il 9 agosto presso la farmacia di Giambiardino. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro, ritroviamo la politica con il Consiglio Comunale di ieri, il Sindaco abbraccia i due nuovi assessori, l'opposizione accusa, primo Consiglio Comunale infuocato dopo il rimpasto, Antonelli dice persa la dignità, Antonelli capogruppo di Forza Italia, Pignoli della lista Teodoro, Tedoro come Maradona. Andiamo nella pagina invece dedicata a Francaviglia all'area metropolitana sempre sul centro, maxifurto in Viale Alcione, svaliggiata la villa del Rettore Caputi, svuotate le cassaforti e trafugati gioielli della madre del professore la baronessa Franceschelli scomparsa un anno fa e vedete proprio le fotografie di quanto accaduto all'interno della abitazione. Sempre da Francavilla, premio MUMI per la solidarietà al progetto Noemi, l'associazione portata avanti dai genitori della piccola Noemi da Andrea Sciarretta e da sua moglie per cercare di dare una mano alle famiglie che hanno problemi con la disabilità, la loro figlia è affetta da atrofia muscolare spinale, cosiddetta SMA1, una malattia genetica molto rara. Proseguiamo con la pagina di Montesilvano, opere incompiute, tre ponti sul Saline, conto alla rovescia, solo uno ultimato ma chiuso, gli altri due non esistono, a fine anno si rischia di perdere. I finanziamenti che ammontano lo leggete a 15 milioni di euro. Poi sempre da Montesilvano fermato con la marijuana e perquisito 39enne è stato arrestato nel taglio basso, Madonna del Popolo, sei giorni di festa a Spoltore. Poi l'ospedale declassato, ritorniamo alla notizia che riguarda la sanità, non finisce qui. Penne, mobilitazione del comitato civico dopo il ricorso respinto dal Tar, Semproni, il sindaco, valuteremo se presentare appello. Nel taglio alto i popolesi a Paolucci, per noi c'è la proroga dovuta al problema legato al terremoto. Nel taglio basso scuole sicure, i sindaci dal dimissionario Errani. Il sindaco Mario Semproni e l'assessore all'istruzione edilizia scolastica Nuzio Campitelli lunedì pomeriggio alle 16.30 hanno incontrato il commissario straordinario per la ricostruzione, per affrontare appunto il tema delle scuole e della loro sicurezza. Andiamo adesso sulla pagina di Chieti. In arrivo autobotti dalla protezione civile nel Vastese, dove non c'è acqua, preleveranno a Mozzagronia per rifornire il depuratore Arap di Sansav e fronteggiare così l'emergenza sulla costa. Ancora in mille per l'ultimo saluto a Cavaliere a Palombaro, per il consigliere morto a 29 anni, il sindaco dice gli intitoleremo subito la sala consigliare e poi una strada. Nel taglio basso, operazione antispaccio a Chieti, droga in casa, arrestati padre e figlio e poi incidente a Miglianico cade nel cantiere della scuola e batte la testa. Andiamo a vedere la pagina di Chieti sul messaggero. Trovata centrale della droga e il titolo di apertura, cocaina dietro le piastrelle. Arrestati padre e figlio dello scalo, avevano anche ascisce e marijuana, lo stupefacente nascosto in cucina dietro la cassaforte e blitz da parte della polizia. Per la politica, Marzoli sul caso tasse, bollette fuori controllo. Il consigliere PD si organizzino due open day con i cittadini per risolvere il problema. Operato d'urgenza, si schianta con la moto e grave un 57enne di Montesilvano, operato all'ospedale di Chieti. Nel taglio basso, ancora la politica comune è pronta alla rivoluzione degli uffici che era stata annunciata dal sindaco Umberto Di Primio. Nella pagina di Lancianova Stortona, il titolo di apertura settembre lancianese, ecco 40 eventi. Presentato il programma, serate di grande spettacoli e musica, appuntamenti clou con New Trolls, Dodi Battaglia e Alex Britti, per motivi di sicurezza sarà vietato al pubblico di entrare nell'ex ippodromo per assistere da vicino ai tradizionali fuochi d'artificio. Adesso, torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire la pagina dell'Aquila. Valle Pellinie in fiamme, nuovi incendi dolosi, ci sono due sospettati. Svolta nelle indagini, avrebbero appiccato il fuoco a bagnaturo, a Secinaro, roghi vicini alle case, il rischio di evacuazione. Vedete, le fotografie davvero dicono molto più delle parole. Nel taglio basso, accuse ingiusti al suo ex, ora è nei guai. Avezzano, donna indagata per calunnia, la base dell'episodio, le liti col marito per la separazione. Torniamo sul messaggero, andiamo ad aprire adesso la pagina dell'Aquila, eccola qui. Condono, tributario comunale. La delibera arriva in Consiglio e l'apertura di pagina. Primo sì in Commissione Statuto, oggi il dibattito in quella bilancio. La procedura riguarda le controversie pendenti di ogni grado di giudizio. Il regolamento prevede pagamenti in contanti fino al 2% o possibilità di rate per importi superiori. Scendiamo nel taglio basso. Sandro Lopiccolo chiuso a preturo. Questa è la notizia che riguarda il boss della mafia. Nel carcere aquilano anche il malevitoso che avrebbe dovuto uccidere il nuovo arrivato insieme al padre. Voltiamo pagina. Perdonanza Moroni dà le dimissioni. Dopo la chiusura della 723esima edizione della perdonanza celestiniana, il coordinatore degli eventi aveva già rimesso il mandato al sindaco Biondi. Dopo Celestino il biennio mariano. Il pellegrinaggio tra il 2017 e il 2018 a Colle Maggio. Un fiume di persone ha percorso la navata riaperta prima della fine delle celebrazioni. Qui vedete la chiusura della porta santa della basilica di Colle Maggio. Andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona. Andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura di Pangrazio. Così batteremo la siccità. Acqua pulita o depurata per le colture e accumulata solo per gli incendi, dice il presidente del Consiglio regionale. Deciso no al riallagamento del fucino. Mancano i soldi. Occorre iniziare un discorso serio anche sulla depurazione. Andiamo ad aprire adesso sul quotidiano Il Centro, la pagina di Teramo. una taglia sul piromene. Notizia che abbiamo già visto in precedenza con il sindaco di Torricella che annuncia 3.000 euro a chi dà notizie per contrastare i piromani. Nel taglio basso l'avvertenza dell'Atria. Domani si sciopera contro i 55 licenziamenti. Poi sì, vi è morto l'avvocato Picciuto. Andiamo a vedere anche le pagine del messaggero che riguardano Teramo. Andiamo ad aprire la pagina teramana. Eccola qui. I MUSP alla D'Alessandro per 500 studenti. Ospiteranno una primaria ed una scuola dell'infanzia. Il sindaco Brucchi ha invitato il ministro Fedeli. Il primo cittadino di Tossicia invece ha chiamato in occasione del primo giorno Carlo Conti e Gabriele Cirilli. Andiamo avanti. Nella pagina dedicata alla provincia. Analisi. Scoperti furbetti del ticket Giulianova. Anche ieri mattina tra centinaia di persone c'è chi sceglie il cosiddetto servizio di cortesia per disabili per aggirare la fila. Una ragazza è svenuta trasportata al pronto soccorso. I carabinieri intervenuti in passato hanno scoperto qualcosa. Andiamo sulla città ora per vedere le altre notizie dal Teramano. ospedale unico. L'area migliore è quella di Piano D'Accio. L'ASL di Teramo ha scelto scremando tutte le possibili opzioni, compresa Giulianova. Ora sarà la regione a decidere. Mosciano esclusa. Nei piani della ASL esclusa l'ipotesi iniziale di Selvapiana che all'inizio dell'anno sembrava la più accreditata. Vedete il rendering degli ospedali riuniti. Passiamo alle scuole sicure. Il polo scolastico con i muspe da 500 posti. Ieri mattina riunione tecnica in comune per definire i dettagli del progetto alla scuola d'Alessandro. Cosa farà il comune? Studio di fattibilità, necessari pareri di legge, studio di compatibilità con i vincoli ambientali. Cosa farà il MIUR? Progettazione esecutiva e progettazione definitiva con l'USR gestione della gara d'appalto e dei lavori. Tempi ad 11 giorni dall'inizio dell'anno scolastico. I muspe saranno pronti il prossimo anno. Non sono comunque una soluzione per le sei scuole più insicure, scrive la città. Andiamo avanti. Il giudice ordina di riaprire la via per mezzanotte. Azienda agricola vince la causa contro il comune. Ancora, anche Renzo di Sabatino medita sulle dimissioni settembrine, resta l'unica alternativa per una candidatura al Parlamento. Il sindaco Rinaldo Seca potrebbe essere il suo successore. Ancora degrado in curia ai giardini Ivan Graziani. Dominata la situazione della villa comunale, il degrado si sposta anche alla Madonna delle Grazie, sempre per quanto riguarda il centro città. Ancora in centro, ripresa la posa delle pietre. Lungo corso San Giorgio. I posatori tornano a operare nel punto abbandonato prima delle ferie di Ferragosto. Proseguiamo. La curia per lo soperosi arriva dallo spazio. Il progetto internazionale sulla stazione spaziale a cui partecipa anche l'Università di Teramo. Ancora avanti con la lettura del giornale. In provincia un centro benessere ai prati di Tivo. Ancora la droga sulla costa arriva da Scampia. Questa è la notizia di Cronaca. Nuovi elementi dalle indagini dopo l'arresto di un trentenne napoletano. Arresto scattato il 17 di agosto in un blizzi in un appartamento di Porto Sant'Elpidio. Adesso andiamo sul centro. Andiamo ad aprire la pagina dedicata allo sport e al Pescara. Gli obiettivi del portiere. Il 24enne è stato uno dei migliori all'esordio. Sono uno del popolo e non amo la vetrina. Senza calcio avrei fatto l'avvocato. Ovviamente si tratta, l'avete letto, di Mirko Pigliacelli, il portiere del Pescara. Il titolo invece è Pescara. Festa doppia, serie A e matrimonio. Pigliacelli a 360 gradi. Se centriamo la promozione sposo Martina nel calcio grazie a papà vi racconto il ballo con mio fratello. Dunque un approfondimento su questo personaggio importante della formazione di Zeman. Altro personaggio importante è Crescenzi. Zeman non mi vedeva. Ora sì, il terzino. Il campionato è lungo. Dovrò sudare per avere spazio domani alle 18.30. Test a Vasto all'Aragona contro la Vastese. Andiamo ad ascoltare proprio le parole di Crescenzi. Sì, è stata una bella partita combattuta. Il Foggia è venuto qui con voglia di vincere. Ha fatto una bella partita e sicuramente il risultato sta un po' largo. Noi abbiamo, secondo me, fatto una buona partita, però delle volte ci siamo abbassati un po' troppo e quindi abbassandoci un po' troppo abbiamo lasciato il pallino del gioco a loro. Però alla fine il risultato è quello che conta. Siamo in parte soddisfatti ma sappiamo che dobbiamo continuare a migliorare e a fare ciò che chiede il mister. Sono contento della mia prestazione ma posso dare molto di più e la squadra deve dare molto di più perché il campionato è lungo e lo sappiamo benissimo che con una partita si parla troppo bene e poi quando si perde la prima volta poi succede il finimondo. La Serie B è lunga e secondo me, oltre alle qualità tecniche, quest'anno ci servirà la fame in tutte le partite. Dobbiamo avere fame e se abbiamo quella possiamo dire la nostra e arrivare a grandi obiettivi. Io ho una fame, mi mangerà pure questo microfono, perché l'altro anno per noi è stata pesantissima, non pensavamo finisse così e non deve succedere mai più. Quindi da parte mia e della squadra spero ci sia una voglia di tornare in Serie A e di dare il massimo. Il mister magari non mi vedeva, quest'anno ho trovato spazio in queste prime partite ma il campionato è lungo. Io sono molto sereno nel senso che la concorrenza quando hai degli obiettivi importanti come quello di tornare in Serie A è normale che ci sia e ben venga quindi. La squadra è forte e poi penserà il Presidente e la società si servirà qualche altro innesto. Siamo sul messaggero, l'Abruzzo Sport apre con le parole dell'ex allenatore del Pescara Cersei Cosmi. Pescara tra le favorite, dice Cosmi, il doppio ex Cosmi domenica non sarà al Curi a vedere la sfida fra Perugia e Delfino e dice andrò a Lecce. Cremonese, Parma e Venezia potrebbero essere le outsider. Zeman la validità delle idee non si misura con la carta di identità. E poi ritorna Balzano e firma un biennale per il mercato del Delfino. Ancora Lega Sebastiani per Simonelli, domani amichevole intanto con la Vastese, abbiamo detto alle 18.30 allo Stadio Aragona. Ritroviamo l'intervista e le parole di Crescenzi che avete ascoltato. La fame fa la differenza, l'abbiamo sentito. Crescenzi domenica torna da ex al Curi, stiamo bene ma non al top. La cinquina va subito dimenticata. E poi altre notizie. Nicastro va via, è ufficiale il passaggio al Foggia. E poi la Coppa in TV, Samp Pescara di Coppa Italia è stata anticipata al 28 novembre con diretta sulla Rai. Ritorniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere adesso la Serie C. Domani chiuderà il mercato. Teramo ecco Sumare e in porta. Arriva Rossi. Barbuti torna ad allenarsi con i compagni. Primo passo verso il rientrico e dal Pescara si profila un altro ingaggio. L'esterno d'attacco Mancini. Andiamo a vedere anche il titolo della città sul Teramo. Eccolo qui il titolo. Il mercato è un vero rebus ma c'è Sumare, scrive il nostro collega Jacopo Forcella. Incerta la sorte di Barbuti. Oggi incontro con Campitelli. Intanto l'esterno belga arriva in prestito dall'Avellino. Questione Portiere. Sembra fatto l'accordo con Gian Maria Rossi e Exandre Bassano. Il trentenne estremo difensore era svincolato. Andiamo a vedere anche sul Messaggero il titolo che riguarda il Teramo. Eccolo qui. Teramo torna a Barbuti presi Rossi e Sumare. Altre notizie dalla pagina del Messaggero. La Serie D con l'Aquila e i nuovi patron incontrano la tifoseria. C'è da fare il punto sulla situazione del DG Aureli contestato. Mercato Quadri lascia il calcio. Serve un acquisto di sostanza. Ancora la Serie D. Avezzano, Cassese e Rullo se ne vanno. Continuano i problemi dell'Avezzano. Problemi dell'Avezzano che possiamo leggere anche qui di spalla sul quotidiano Il Centro. Rullo e Cassese via. Avezzano, Caos e Paris. I Bacchetta. I Marsicani a caccia di difensori. Preso di Rocco del Paterno. Piace al Tobbello. Exteramo. L'Aquila ha sfumato Nigro. Cerco in centrocampista. Stasera intanto la presentazione del Francavilla. Questo per quanto riguarda il punto sulla Serie D. Torniamo sul messaggero. Andiamo a vedere. Completiamo la lettura delle altre notizie di sport. Roseto. Oggi il primo test c'è da sostituire Nelson. Poi il calcio a 5. A Questapone domani il primo test. Di Eugenio è il nuovo direttore tecnico. Il rugby. L'Aquila. Da ieri sera si aggrega il nuovo acquisto di Lorenzo. Poi eccellenza. San Buceto. Preso la selva. Quiroga. Colpo del San Salvo. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere gli altri sport. Il pattinaggio. La principessa del pattinaggio artistico. Sbei con i pattini sul tetto del mondo. La 27enne Giuliese. Dall'addio alle rotelle. Alla laurea in arrivo. E poi la rocca e il pugilato. ai miei tempi erano pugni veri. Ora è solo spettacolo. Il campione degli anni 80. Uno stage di Pescara a box. E poi il basket. Porte girevoli a Roseto per gli stranieri. Arriva Oggi. Domani dovrebbe tornare negli States Nelson. La squadra gioca stasera a Teramo. Nel taglio basso. Calcio a 5. Accordo con Sport Italia. In Bila. Tombesi. Prende Adami. Beach tennis. Banchi e Parnanzini. Campioni regionali a Giulianova. Abbiamo così completato la lettura anche delle pagine sportive. Mattino 6 termina qui. Torna domani mattina alle ore 8. La nostra informazione invece oggi con il TG6 alle 14 alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Grazie per aver guardato il video.